Eri eccoci, dai che le vacanze di Natale sono dietro l'angolo, ce la stiamo mettendo tutta per spremere sino all'ultimo questo 2016 tra attacchi terroristici e polemicozzi vari, ma ci siamo quasi arrivati. Parliamo di nuovo di Adam Saleh, ve lo ricordate? Il buon scherzatore del web, che pochi giorni fa è stato al centro di una polemica per aver finto di volare su un aereo all'interno di una valigia. Tutto finto, ovviamente. E a proposito, io ho detto questo. Nessuno frega niente, io perlomeno mi sentirei offeso se fossi parte del pubblico di questo professional idiot, ad esempio. Non lo so, non lo so. Si sta di nuovo parlando di lui e di nuovo relativamente a un viaggio in aereo ed è una delle ragioni per le quali le persone sono confuse. Gli eventi sono separati e in questo caso ci troviamo negli Stati Uniti, non in Australia, precisamente su un volo Delta Airlines. Il ragazzo ha infatti fatto diversi video della vicenda in questione, uno dei quali proprio mentre viene buttato fuori dall'aereo, assieme ai suoi amici. Nelle immagini si vede lui proprio far casino, impugnando il telefono e affermando che la ragione per la quale lo stanno sbattendo fuori e che era al telefono poco prima del decollo con la madre e che con lei e i suoi amici stesse parlando in arabo e per questo variati passeggeri si sarebbero lamentati perché infastiditi o spaventati o razzisti. E gli operatori di Delta Airlines lo avrebbero quindi buttato fuori, sottoposto a un'altra mezz'ora di controlli e poi costretto a prendere un altro aereo per tornare a casa. Eh eh eh, sarebbe piuttosto grave questa roba qui. Ma... tutte queste storie ci arrivano raccontate dallo youtuber stesso. Non c'è prova di tutto questo. Le uniche cose che vediamo sono lui che riprende cosa accada all'interno dell'aereo con delle persone che mentre viene allontanato gli dicono anche bye bye e quindi mistero risolto, stronzi razzisti che votano Trump, picchiano la moglie e guardano ballando con le stelle e bevendo birra al limone. Il peggio del peggio che l'umanità ha da offrire. Ma non è così che funziona. E quando ieri ho visto sta roba mi son detto aspettiamo a trattarla. Ne parliamo domani. Sono sicuro la notte porterà consiglio. E così è stato. Premettiamo, viviamo in un mondo nel quale qualcuno potrebbe essere discriminato per il fatto di essere arabo? Direi di sì. Perché come le storie più belle, perché anche questa secondo me è una storia e nient'altro, mettono radici in reale. Premessa fatta, stiamo parlando di un personaggio che mente continuamente al proprio pubblico per visualizzazioni e al quale non interessa minimamente quanto le sue azioni possano o no danneggiare chi sta attorno a lui. In passato si era già parlato di sto tizio perché come altri suoi colleghi hanno fatto in altre occasioni ha finto un prank nel quale faceva passare la polizia di New York come razzista pronta a intervenire soltanto quando la persona di fronte a sé era facilmente identificabile come musulmana. Peccato poi salto fuori si trattasse anche in quel caso di attori, anche il poliziotto. E vogliamo parlare di quando disse che la sua intera famiglia era stata vittima di una sparatoria e poi salto fuori che nulla di tutto questo fosse vero. In questo caso probabilmente è lo stesso e Delta Airlines è un passeggero addirittura, comparso su Reddit con tanto di foto al biglietto per dimostrare di essere stato presente, ha fatto sapere che il ragazzo è stato allontanato perché sì, è vero, i passeggeri si sono lamentati ma del prank che stava girando sull'aereo, ovvero uno riprendeva e l'altro gridava in arabo per vedere le reazioni della gente. Cosa succederà mai se qualcuno grida in arabo dentro un aereo? La gente si incazza, ecco cosa succede. Quindi, la gente si incazza, iniziano i litigi e lo youtuber avrebbe immediatamente giocato la carta del pregiudizio razziale e convinto un sacco di giornalisti, anche alcuni italiani, che ho visto twittare in merito a sta roba. Non lo possiamo sapere per certo come sia andata in realtà, ma visti i precedenti è probabile sia andata così. E anche se non fosse così, si tratterebbe della solita favoletta del bimbo che grida al lupo al lupo e nessuno gli crede. Che però, in questo caso non danneggia solo lui, danneggia tutti quanti. È una delle ragioni per le quali da anni cerco di avere un atteggiamento molto maturo, perlomeno per quanto io possa essere maturo qui sulla piattaforma. Perché chi guarda, se vede solo atteggiamenti infantili o non degni di fiducia, penserà che tutti quelli che stanno qui siano soltanto dei bambini irresponsabili che farebbero qualsiasi cosa per un pugno di like. Questa storia, in un certo senso nella tristezza, che è la cornice della discriminazione razziale, è una sorta di vendetta dell'universo. Ma di nuovo il ragazzo si sta facendo pubblicità e la gente ama seguire chi odia, quindi alla fine immagino abbia vinto lui. Palla al centro e tutti a casa. Parlando d'altro, nessuno che voglia scrivere una lettera al ministro Poletti? Nessuno? Mi sembra una buona idea, una bella lettera che dice vergogna, vergogna Poletti, no? Una bella letterina che non lo sta facendo nessuno. Eh? Non vi va? Pubblicata su un giornale online, magari. Telefono, volete che telefoni a qualcuno che vive all'estero? Tutti i miei amici sono all'estero, lo chiamiamo, gli chiediamo di scrivere pure a loro, eh? Eh? Bello, caro Poletti, badabim badabim badabam. E poi, yeee, questo giovane asfalta Poletti. E poi qualcuno può scrivere un'altra lettera in difesa di Poletti, eh? Una bella letterina. Questo paese è sempre lo stesso. Io non metto in dubbio l'indignazione di chi vorrebbe vedere il suo paese cambiare. Ce l'ho con la politica, che invece di mettere ordine nell'opinione pubblica, alimenta il casino incontrollato e vivacchia da quello. Un po' come i provocatori del web, no? Tipo i prankster fanno il video, finto, che fa arrabbiare tutti, poi lasciano che la gente litighi senza senso e si beccano la grana. Qualcuno, qualche leader politico, può dire cosa farebbe lui se fosse il ministro del lavoro? Non per difenderlo Poletti, eh? Non me ne frega niente. Giusto così per dire. Per me Poletti può anche dimettersi e occuparsi di qualsiasi cosa facesse tre anni fa. Ma così, una proposta che non sia cancelliamo la legge Fornero, aboliamo i voucher, distruggiamo il Jobs Act. Una proposta positiva. Salve, mi chiamo signor politico e credo che per rendere il nostro paese più attraente per il lavoro, l'imprenditoria, la manifattura, le nuove tecnologie, dovremmo fare questo, questo e quest'altro. Cose serie intendo, non fantasie. Giusto così. Oltre le lettere di indignazione. Per dire. Rimanendo in tema politica, Formigoni, ex presidente della Lombardia e oggi senatore di nuovo centrodestra, il partitino di centro di Alfano, è stato condannato in primo grado. Quindi ci sono ancora un sacco di gradi di giudizio da passare prima che eventualmente si aprono le porte delle patrie galere. È stato condannato, dicevo, a sei anni di reclusione e al pagamento di una multa, assieme ad altri due imputati, di tre milioni. Formigoni, che per un periodo è stato uno dei personaggi più in vista della politica italiana di centrodestra, era da tempo accusato di aver messo su un sistema di corruzione che gli permetteva di ricevere beni e servizi, quindi barche, viaggi, cene, vacanze, tutto gratis, e in cambio di appoggiare illecitamente degli imprenditori, facendo ricevere ad aziende di loro proprietà del denaro che non gli spettava, creando un buco di 56 milioni in una fondazione medica specializzata in tecniche riabilitative. Quindi c'è questo. Ma c'è anche il fatto che a gennaio il Tribunale di Roma dovrà decidere se il famoso contratto sottoscritto tra Raggi e la Casaleggio Associati, ovvero l'azienda privata che gestisce tutto l'universo del Movimento 5 Stelle per conto di Beppe Grillo, sia incostituzionale. Che farebbe ridere, perché immagino che in quel caso la Costituzione non sarebbe più così inviolabile e sacra, come ci siamo raccontati sino ad oggi. Il punto è questo. Prima dell'insediamento della Giunta, Virginia Raggi e i suoi hanno firmato un contratto con Grillo che li obbliga a consultare il partito prima di prendere qualsiasi decisione importante. Pena? Una multa di 150 mila euro. Questa cosa, che è stata criticata ma non abbastanza, obbliga ovviamente tutti quanti a rimanere fedeli alla linea, perché 150 mila euro sono tanti anche per chi fa il consigliere o il sindaco di Roma. Questa cosa, secondo un avvocato esperto di diritto amministrativo e legato al Partito Democratico, violerebbe le norme della Costituzione che permettono l'esercizio delle funzioni pubbliche senza vincolo di mandato, che significa che un parlamentare o un consigliere non possono essere obbligati in alcun modo a votare una cosa che non vogliono votare. Ci sono dei dubbi sulla legalità del contratto in sé, quindi staremo a vedere. Di certo si può rispondere a chi dice che non sia vero che Grillo sia in grado di teleguidare se vuole il governo di Roma ricordandogli che la minaccia di dovere andare in bancarotta sborsando 150 mila euro sarebbe abbastanza spaventosa da tenere praticamente chiunque non sia miliardario ben in riga. Parlando di esteri, lo saprete, a questo punto la nostra connazionale, che sia una stamattina era ancora data per dispersa, Fabrizia Di Lorenzo, è stato confermato sia tra le vittime dell'attacco ai mercatini di Natale a Berlino. Mi spiace. Il killer, peraltro, si pensa possa essere un tunisino ricercato ovunque, tanto che la polizia tedesca ha promesso 100 mila euro per la sua cattura. Anzi, ecco, mostriamo la foto, metti che qualcuno di voi ci si possa comprare casa. E la persona in questione sarebbe stata quattro anni in carcere in Italia a seguito dei disordini avvenuti nel centro di accoglienza nel quale era stato spedito a Lampedusa. A quanto pare il ragazzo, che si chiama Anis Amri, sarebbe dovuto essere espulso, ma in realtà è andato poi tranquillamente in Germania. E questa cosa, questa cosa qui, molto più dell'attacco in sé, rischia di avere delle conseguenze reali. Perché qualcuno si chiederà di chi è la responsabilità. In chiusura, nell'ultima puntata di Breaking Italy normale, domani c'è il rewind, parliamo dell'avvenuto sgombero di Aleppo. A quanto pare, infatti, i civili e i guerriglieri antigovernativi sono stati quasi del tutto evacuati, per lo meno a sentire fonti vicine alla Croce Rossa. E dentro venerdì le restanti 34.000 persone presenti ancora in città dovrebbero essere trasportate in zone sicure tramite l'utilizzo di mezzi militari e centinaia di veicoli civili. Perché 34.000 persone sono un po' di persone. Il governo siriano, come previsto dal cessate il fuoco, sta aspettando che tutti i civili vengano trasportati fuori dalla città prima di inviare le sue truppe negli ultimi quartieri che sino a poco tempo fa erano ancora sotto le bombe russe, per di fatto riprendersi il controllo della città. Non voglio nemmeno mettermi a parlare di implicazioni, di politica, di come vada in Siria sotto al profilo militare. Cerchiamo semplicemente di essere contenti che tutte queste persone si siano salvate dai bombardamenti e ora siano al sicuro. Anche se la guerra ovviamente non è finita. E questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato Gentaglia. Mi raccomando, domani ultima puntata di Breaking Italy prima di Natale. Anche se non è l'ultimo video dell'anno, per i molti iscritti nuovi che non lo sapessero, ogni fine anno faccio un video speciale per parlare un po' di noi, di me, di come sono andati 365 giorni precedenti. Spesso diventa una cosa un po' feels, ma quest'anno cerchiamo di non farlo succedere, ok? Rimaniamo seri. Quello lì è il link al video dell'anno scorso, ad esempio. Io non ho ancora avuto il coraggio di riguardarlo il video precedente perché il 2016 è stato un anno un po' difficile e non voglio sentirmi parlare di speranze, perlomeno non prima di aver avuto qualche giorno di riposo. Quindi, a domani.